ecco questo è il nuovo prodotto fermo inferiore f di fermo decelerante inferiore la novità è che mentre nella versione vecchia con un colpo poteva sfilarsi ruotare e quindi aveva una facilità di rottura abbiamo fatto una modifica apportando una ferritoia in questo punto e facendo in modo tale che questo avanza ma non ruota più non esce più a uno stop mentre quello di prima ruota la scappava via e avevamo delle contestazioni quindi abbiamo fatto una miglioria all'articolo f di fermo decelerante inferiore